Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, latte, farina, uova, parmigiano grattugiato, burro, sale, pepe, noce moscata e prezziamolo tritato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le zucchine, il burro, il latte, il sale, il pepe, la noce moscata e il prezzemolo tritato ed azioniamo il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. sgoccioliamo il liquido in eccesso. A questo punto inseriamo le uova, la farina e il parmigiano. e facciamo amalgamare per 30 secondi, anti-orario, velocità 2. trasferiamo il composto in una pirofila ben imburrata. spolverizziamo con del pangrattato e del parmigiano. Andremo a cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 35-40 minuti circa. Il tortino è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Tortino di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!